Migliora notevolmente l'operatività del sistema della White List della Prefettura. Dopo un lungo periodo di rodaggio, lo strumento di prevenzione della corruzione negli appalti pubblici finalmente sta decollando. Le imprese iscritte a livello provinciale nell'elenco di quelle soggette a tentative di infiltrazione della criminalità organizzata e che risultano essere pulite sono 265 di queste, 7 sono poste ad amministrazione giudiziaria. Crescono dunque i numeri delle società negli ambiti di interesse della White List accanto a questi numeri che rappresentano una realtà aziendale più viva nel territorio dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Restano immutati i problemi di una lunghissima lista d'attesa. Ben 465 società aspettano questo provvedimento e sono nel limbo di infinite fasi di istruttorie. Attese che risalgono anche a 4 anni o addirittura quasi 5. Ma i dati positivi ora ci sono, soprattutto se si considera la data risalente al 18 aprile 2013, giorno in cui il decreto governativo ha attivato la White List. L'iscrizione dell'azienda è facoltativa, tuttavia moltissime imprese non possono iscriversi, in quanto la normativa esclude espressamente gli esecutori di lavori, cioè una moltitudine di aziende. La prefettura fa quello che può, inoltre non è insolito che chiedano di essere iscritte imprese che hanno già subito interdittive antimafia.